Allora intanto mettiamo questa Allora intanto mettiamo questa Allora vai dentro Ciao Nicole, ciao Maria Cristina Allora intanto mettiamo questa Allora intanto mettiamo questa Allora Come dice Cristiano Allora Mentre stiro i tap tap li farò dopo Fa bene ma la Allora Non so che faccia hanno ma riconosco le voci Non lavorano Ma che ti devo dire Non lo so I giorni Ieri tornavo da Ci credo Che roba Che figo per cosa Sono di Montesacro Sono di Montesacro Piena poco Quindi se questa è la quattro Ci mettiamo Ah Giulia davvero 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 siamo vicine Ma pensate Chiari di Roma si va bene Ma che stessi vicino Non pensavo che stessimo vicine Allora Allora vai dentro un attimino Così finiamo di polimerizzare Allora Sull'unghia naturale Ho messo questa E per attaccare Utilizzo questa Per attaccare Assolutamente Preferisco questa Poi ho usato Le extend stiletto C'è la confezione grande C'è la confezione piccola Questa è quella piccola E sono 250 pezzi Ovviamente Una c'è un costo E una c'è un altro Adesso Che numero dice? 17 7 bagni Ma dai Ma stiamo proprio vicinissime Io sto vicinissima A Porta di Roma Vieni Allora Fammi guardare un attimo Queste Che mi prendo Tipo una misura Allora Ci possiamo andare A prendere un caffè Insieme Da qualche parte Giulia Scusa Molta rima No Villa C'è il problema C'è il problema Da finì sotto la lampada Ah sì Ogni tanto cammino E sento Sotto le scarpe Se te volano Se vale che mio papà Quando erano i militari Andò in zona Montesacro Nel 77 Quando sono nata Pensa un po' Pensa un po' Pensa un po' Pensa un po' L'un po' Pensa un po' Buongiorno. Oh Giulia, ma che me l'hai detto? Abbiamo pure i numeri di telefono, ma ci organizziamo dopo che lasciamo le bambine a scuola. Allora, leviamo quello che non ci serve. Prendiamo My Friend. My Friend. Sì, quello che non piace a me. Il monomero. Come fate a dire che agli clienti non piace l'odore del monomero? Io tutte quelle che vengono sono molto felici di sentire questo odore. Senti. Respirano a pieni polmoni. Senti. Allora, vogliamo fare... Ah no, il bianco abbiamo detto. Eh sì, no? Non chiedo più niente. Non chiedo più niente. Allora, tanto questo lo usiamo dopo. Adesso prendo il glitter. Facciamo un glitterino chiarino, rosino o bianco? Bianco bianchino. Aspetta eh. Fammi vedere. Tipo così o solo bianco? No, bianco mi piace. Ok. Perfetto. Bianco. Perfetto perché c'ho lui, lui, l'unico, il solo, indimenticabile, indispensabile. Cosa sono? Che cosa? Bello bianco. Cosa sono cosa? Acrilico. Acrylic, my love, my sweet love. La love. Che so belle, non stancano mai. Quello che mi hai fatto tu non mi stancano. Cioè, proprio la sua pelle. È vero, è verissimo. La prossima voglio fare nere con quell'effetto. Bellissimo. Voglio proprio vedere come vengono. Benissimo. L'ho fatta un sacco. Sì? Sì. Voglio fare nere così. L'ho fatta proprio un sacco. Dopo, se mi ricordi, prima di andare via, ti faccio vedere un paio di foto. Infatti c'è un'amica mia che mi ha voluto la foto. Non so se se ne faceva, fa pure lei. Delle tue? Sì. Mi mandi la foto delle unghie perché venuta al negozio e me l'ha vista. Quelle trasparenti sono tip. Ho allungato il bordo libero con le tip. Ecco, così vedete. E poi mi ricordi. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo imparerai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Ok. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 E senti tutto, no? In silenzio. A mattina presto, quando fa? Quando fa il turno di mattina, sì, perché si sveglia tipo alle 5. E quindi inizia il concerto. E quindi, capito? Mamma mia, te svegli proprio col... Ti metti d'appi. Col piede giusto. Mannaggia. Buongiorno. Schifo. Eh. Cioè, sicuramente non gli verrà mai un raffreddore, eh? Perché proprio... Spuda tutto fuori. Lo fa benissimo. Però... Adesso puoi muovere quella mano, eh? Ok. Si è asciugato. Si è asciugato. Ecco perché non vivo più in condominio. Eh! Infatti la vita da condominio, secondo me, è proprio la peggiore. Riesco a malapena a tollerare i vicini della bifamiliare. Ok. Ecco. Grazie. eh ma chi lo dici Giulia anche a me piacerebbe occhia tu video video mio? ah su Instagram si ehm io ceno tutte le sere con il vicino che suona la tromba oh mamma oh santa pace sembra di vivere in una caserma ci credo e la mattina pure allora fa la sveglia come si dice? alza bandiera alza bandiera ma pensate certo che nella vita dei condominio ce n'è di tutto oh yeah anzi non so io me la mento guarda ti devo dire che anche qui anche qui non è che chissà a parte che robe strane i scadarri mattutini ecco a parte guarda te dovessi dire solo quello che so più fastidiose persone che frequentano qua sotto che i condomini perché poi passiamo dal bar alla tavola calda capito? questa pizzeria pure sono anni sta qua questi hanno trovato il loro pubblico oh questi campano alla grande da quando ci abitavo già io questo pubblico più di vent'anni mi sa la voglia è un po' di vent'anni non è un po' di vent'anni la mattina va a lavorare ma una caserma mamma mia non c'è tregua quindi la mattina va a lavorare l'alza bandiera la sentono per chilometri non solo lei la sente chiaramente mamma mia una punizione madonna la sentono tutti eh certo abbiamo finito pure il monomero è finito giusto un tempo è riuscita a fare tutte grazie a tutti grazie a tutti sarebbe utile lo zoom sul dettaglio è l'ultima è l'ultima unghia sto aspettando che polimerizzi un po' perché se no col clear me lo porto via è l'ultima questo si vai l'ultima ce la faccio abbiamo pulito tutto buongiorno è l'ultima Ok, adesso all'alimazione. Sì, ma il bianco è bello. Ti devo dire che quest'anno l'ho fatto poco, infatti è troppo poco, perché io pure lo faccio spesso. Allora adesso però invece per limare tolgo lo zoom perché sennò... Ecco, hai finito di stirare Mara? Allora... No, sono ritornate le unghie. No, sono ritornate le unghie. Mi sono bloccata? Boh, mi sono bloccata? No, ecco, sono tornata. Si è presa. Mi hanno ricoverato tuo papà, mannaggia, mi dispiace. Come va? Come va? Come va? Sì. 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 No, siamo radati alle United. Sì. 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 Soffè, è perfSI. Ci ti sono rimane lì che 2 uhm routine chiacchi terroristi primarily. Sì, um karışitale. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ti piace? Grazie a tutti. 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 Ciao Chiara. Olle. Olle. Si. Oggi. Oddio. Meno male che non c'è. Meno male che non c'è. Olle. Bene chi ha tu. Un momento A. Scusate. Scusate. Un momento A. Un momento A. Un momento A. Un momento A. Il Bonder. il bonder giro adesso sto usando il quick finish con tutto ciò che è bianco specialmente questo bianco che è tutto completamente bianco preferisco usare lui ok ciao Mara una garanzia il quick il diamond l'hai provato? è bello anche lui da avere tutte e due giro un attimo molto viene bellissimo fammi vedere il pollice ok vai ancora no il prossimo ordine si prendilo perché tutti e due da avere gocciolina giro ma dei bei colori che consigli semi però eh dopo puliamo questo sono usciti dei nuovi colori su bsn spero di averli presto una nuova formula farai vedere giro vai grazie Dura. riesco ancora e poi quando li stendi eh c'hai ragione no per ora sono pochi per ora sono pochi ma arriverà tutta la linea completa quando li stendo li stendo insieme a voi in diretta ciao Stella buongiorno bene zepiaze 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 che numero dice là 95 arriviamo a 100 98, 99, 100 belle 100 100 ricordi la ruota della fortuna ok il prezzo è giusto 100 100 100 senti metti la crema però me la metto me la metto ma c'è te cascheranno qui di là vedi c'è la mano di là ce l'ho proprio ci ho messo pure gentle in beta perché ce l'ho strebole perché sto sempre a lavare le mani ti devi portare il sapone da casa devi trovare un sapone noi ci abbiamo ancora il sapone al lavoro ma deve essere neutro perché se è alcalino ti secca da morire vedi sempre però metto a posto e lavo le mani però me lo compro i guanti quelli me lo compro sì certamente ci vado a fare tanto ce l'hanno pure questi ma sì ce l'hanno tutti belle però ci piace le quantità di lavoro ce l'hanno tutti la circolazione è ciò cattiva cattiva le mani viola pure io mamma che fastidio brutte pure io pure io pure io tutte viola i piedi le gambe pure basta facci i massaggi pure io faccio il comasso guarda non mi tira la gamba carino sempre carino sì sento pure qua esco yes aspetta che pulisco un po' ok bello mi piace mi piace vedi molto bene sì e mi viola mi la tocchi me lo scaldi e cambia ritorna ritorna bianca serve il massaggio io serve il massaggio circolatorio ma poi c'è le mani calde quindi c'è le mani fredde eh sì è questo momento è questo momento che mi sto muovendo vedi qua secca voglio mettere crema allora ho sentito che di una nuova crema di chicaplast di la roche posay era buona e sicuramente lì di fronte alla tua parafarmacia che c'hai di fronte sicuramente ce l'hanno chicaplast infatti me la volevo prendere anch'io è una crema un po' multiuso e ho letto molti commenti che funziona che funziona che è buona e prova anzi poi mi fai sapere certo ah che bello si ritorna le unghie allora visto che chiara non c'era siamo tutti così prendiamo il peggio della genetica prendere è un'ottima crema ah ok quindi mi stai confermando che è un'ottima crema chiara tu non c'eri quale delle due è stata ricostruita con tip quale delle due mani è stata ricostruita con tip dai un secondo e poi vi lascio e la lascio va bene intanto che scrivete chi non eh ma chi non ha visto però eh si destra qual è la destra destra tua o destra destra questa o destra questa diciamo sopra o sotto sopra o sotto sinistra destra no facciamo sopra o sotto perché no lo lasciamo destra di lei quindi questa sì comunque sì va bene ragazze bacetto grazie a tutte ci vediamo in giro per i social e può darsi che tra un po' mi riattacco una live che faccio qualcosa sulle mie ancora cadaverini ciao ragazze grazie a tutti